Maggio 2009. Al mobilificio Rudiana di Bassano del Grappa. Liquidiamo, scontiamo, regaliamo. Cristalliera 3 ante, 490 euro. Credenzone 4 ante chiuse, 350 euro. Credenzone 4 ante con vetri, 390 euro. Tavolo allungabile, 190 euro. In regalo una splendida cassa panca di un metro e venti per l'acquisto anche di un solo mobile. La caratteristica principale della nostra produzione consiste nell'utilizzo di legno massiccio di rovere, ciliegio, nonché un largo impiego di legni antichi che danno ai nostri manufatti una patina di vissuto per rendere gli ambienti più caldi ed accoglienti. Maggio 2009. Al mobilificio Rudiana di Bassano del Grappa. Liquidiamo, scontiamo, regaliamo. Madie 290 euro. Settimanali e angolari 150 euro. Armadietti 250 euro. Porta tv 90 euro. Il nostro reparto cucine è stato completamente rinnovato con l'inserimento di nuovissimi modelli in noce, ciliegio, rovere e laccato. Cucine complete di elettrodomestici a 2.900 euro. Al secondo piano troverete un vastissimo assortimento di camere artigianali eleganti e raffinate in massello di noce, ciliegio e rovere con armadi laccati e letti in ferro battuto. Camere complete a 1.900 euro. Comò e comodini a 250 euro. Maggio 2009. Al mobilificio Rudiana di Bassano del Grappa. Liquidiamo, scontiamo, regaliamo. Magnifiche pareti attrezzate anche su misura realizzate con calde patine per ravvivare i vostri soggiorni ed inoltre salotti di grande fascino nelle tonalità delle pelli più esclusive con sconti mai visti e in regalo una splendida cassa panca per l'acquisto anche di un solo mobile. Stupendi studi professionali e privati con librerie funzionali, lineari, eleganti e capienti. Bellissime scrivanie a 250 euro. Librerie di tutti i tipi a 290 euro. Mobiletti, vetrine, console e cassa panche, tutto a 150 euro. Tavoloni da taverna, sino a 10 centimetri di spessore in legno antico, anche su misura del cliente. Per visionare i nostri articoli, consultate il nostro catalogo presente nel sito www.rudiana.com ed inviateci una mail con la vostra richiesta, non dimenticando di lasciarci il vostro recapito per essere ricontattati e seguiti al meglio. Vi ricordiamo anche i nostri pagamenti, 12 mesi senza interessi e 5 anni a interessi minimi. Siamo aperti tutti i giorni della settimana, compresa la domenica sia mattina che pomeriggio. Maggio 2009, al mobilificio Rudiana di Bassano del Grappa. Liquidiamo, scontiamo, regaliamo. E per l'acquisto anche di un solo mobile, regaliamo una splendida cassa panca da un metro e venti.